stop al pesce fresco a tavola da oggi 30 luglio per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo l'adriatico lo ricorda col diretto impresa pesca in occasione dell'avvio del provvedimento che bloccherà le attività dei pescherecci per 42 giorni dal 30 luglio fino al 9 settembre dal friuli vedenza giulia veneto dall'emilia romagna fino a parte delle marche il blocco precisa la col diretto inizialmente verrà da trieste ad ancona mentre lungo l'adriatico nel tratto da san benedetto a termoli le attività si fermeranno il 13 agosto fino al 23 settembre e da manfredonia a bari lo stop avverrà dal 27 agosto al 9 ottobre in un paese come l'italia che importa più di due pesci su tre nei territori interessati dal fermo biologico sottolinea col diretto impresa pesca aumenta quindi il rischio di ritrovarsi nel piatto per grigliate e fritture soprattutto ristorante prodotto straniero o congelato che non si tratta di quello fresco made in italy proveniente dalle altre zone dove non è in atto il fermo pesca dagli allevamenti nazionali e dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche della piccola pesca che possono ugualmente operare per acquisti di qualità al giusto prezzo quindi il consiglio di col diretto impresa pesca è di verificare sul bancone l'etichetta che per legge deve riportare la provenienza dell'area di pesca